Ciao, sono Massimo del ristorante Nami. Ci troviamo a Milano in corso di Porta Ticinese 6. Siamo in zona centrale, a due passi dal Duomo, ma anche a due passi dalla zona Navigli. Il ristorante Nami è nato circa otto anni fa, in cucina soltanto giapponese. L'arredamento ha elementi classici, come ad esempio le canne di bambù, altri più moderni come il metallo, materiali plastici anche. L'ambiente appunto richiama un po' quello che può essere il locale serale, quindi luci basse, musica alta, candele. La nostra filosofia è quella di fondere un po' la tradizione con qualche cosa di innovativo anche. E lo si vede spesso nei piatti, magari non tanto nel piatto in sé, quanto nei condimenti che lo accompagnano, nelle salse. Il mio piatto preferito è un piatto caldo, sono le polpette di gamberi. I piatti caldi sono quelli più tradizionali della cucina giapponese. Mentre sui piatti freddi, quindi sul sushi, sulla parte con pesce crudo, ci sono maggiori innovazioni. I piatti più particolari del nostro menù sono gli uramaki e poi i gunkan, che sono dei botolini a pezzo unico, che si possono mischiare, quindi prenderne anche 6-7 tipi diversi. Alcuni hanno le alghe, tipiche dei botolini giapponesi, altri hanno il pesce all'esterno oppure dei vegetali. Le caratteristiche principali di questi piatti sono avere un genere delle salse che li accompagnano, si va dalla maionese a salse più piccanti, non per forza giapponesi, quindi abbiamo delle salse filippine o italandesi. Un saluto agli amici di Lovoresto. Vi aspettiamo al nostro ristorante e fateci sapere se avete visto il video, così vi daremo una gradita sorpresa alla fine del pasto.